L'economia del dopo lockdown e la campagna vaccinale in corso iniziano a dare buoni frutti facendo tirare un respiro di sollievo all'intero comparto e soprattutto a chi fa impresa con l'estero. Di questo parla la 187esima indagine congiunturale trimestrale presentata dalla neoeletta presidente di Confindustria Alessandria, Laura Coppo. Il risultato dell'analisi congiunturale della provincia di Alessandria conferma i risultati positivi del trend di crescita dell'economia delle aziende della nostra provincia in linea con quanto già emerso dalla congiunturale della regionale e dal bollettino del conto economico della Banca d'Italia. In crescita tutti gli indici con segni positivi per l'occupazione, produzione, ordini totali, export e investimenti. In calo e nella fattispecie un segnale positivo il ricorso alla cassa integrazione scesa dal 22 al 16%. Un'avvocata d'ossigeno che spinge gli imprenditori Alessandrini a investire, così come hanno dichiarato il 78% degli intervistati, spinti anche dagli incassi, il cui ritardo anche in questo caso è sceso di 8 punti percentuale. Indici in salita per la gomma plastica, l'alimentare, la chimica e il metallo meccanico, mentre continuano il loro trend positivo in servizio alle imprese. Le imprese che abbiamo intervistato sono circa 98, un centinaio di imprese che costituiscono un campione rappresentativo delle imprese della nostra provincia e in tutti gli ambiti, anche se in modo eterogeneo, riscontriamo un trend di crescita più rapido rispetto a quello precedente. In particolare possiamo dire che questo trend è migliorato grazie all'impulso dato dall'accelerazione del piano vaccinale e dalla ripresa della spesa delle famiglie che nel pieno della pandemia si era in qualche modo ridotta. C'è però un tassello non di poco conto che preoccupa un po' tutto il comparto, ovvero la variante Delta, che rischia di frenare i progressi nel contenimento del contagio.